Abbiamo iniziato stamattina alle 8 a fare il piano vaccinale, sarà senza sosta fino a stasera alle 20, sono previsti a 200 dosi, sta filando tutto quanto in maniera assolutamente perfetta. Tengo che sia importante anche la tecnologia che si è instaurata e l'abbiamo iniziata quando abbiamo fatto i tamponi tra Comune, Asur e Protezione Civile. Abbiamo avuto riscontro anche dai cittadini della Vallesina e qui questo luogo ospiterà se non altro i primi 20-22 giorni del piano vaccinale, poi dopo stiamo colloquiando con la provincia per un'altra situazione differente. Abbiamo evidenziato un paio di luoghi, appunto stiamo colloquiando con loro perché aumenteranno le dosi e ci saranno i richiami. Mi preme veramente ringraziare tantissimo la bocciofila perché la bocciofila, tutto è avvenuto molto rapidamente, quindi quando abbiamo pensato alla bocciofila siamo venuti qua e con i responsabili della bocciofila abbiamo concordato che poteva essere un luogo idoneo. Questa è fonte di una grande collaborazione e di una grande coscienza e grande consapevolezza, quindi veramente mi preme ringraziarli perché si sono privati di una cosa e hanno spostato i propri orari per allenarsi, per far sì che le persone potessero vaccinarsi. Quindi un ringraziamento veramente sincero a loro.